I prodotti Ursa contribuiscono a risparmiare fino a 600 volte la quantità di energia necessaria per produrli. Durante la loro vita le emissioni di CO2 sono 250 volte inferiori alla CO2 generata nella loro produzione durante il trasporto. Nella nostra produzione impieghiamo elevate quantità di materiali riciclati, riducendo l'impatto ambientale. Prestiamo attenzione ai dettagli e i nostri imballaggi ci consentono di ridurre il volume e il peso del nostro prodotto, ottimizzando i trasporti alle varie destinazioni. Di conseguenza le emissioni di CO2 si riducono.